Continuiamo su questa strada di internazionalizzare la nostra regione, farla sempre più sede di grandi eventi che gli danno visibilità, che permettono al nostro territorio di essere conosciuto, oltre che di ricevere migliaia di turisti, in questo caso parliamo dei ciclisti, di tutte le squadre d'Europa che verranno a correre in questa occasione. Il 2021 è 20 anni dal sisma Aguilano, sarà una grande occasione anche per mostrare al mondo una città rinata, risolta, che guarda il futuro e torna ad essere sede di grandi eventi nazionali e internazionali.